E rieccoci, siamo alle solite signori, il governo cambia le regole e va ad estendere l'obbligo di copertura assicurativa anche ai mezzi elettrici leggeri, prima o poi sappiamo che, beh, insomma, sarebbe successo. E allora, ecco tutte le novità decise dal CDM. Il governo ha avviato una piccola rivoluzione nel campo dell'RC Auto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, uno schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva dell'UE. Saranno dunque introdotte modifiche al Codice della Strada e a quello delle assicurazioni private, aggiornando tutti i casi che prevedono l'obbligo di copertura assicurativa. Ecco le novità. L'assicurazione per responsabilità civile sarà obbligatoria anche per i veicoli elettrici leggeri, tra cui biciclette e monopattini. La stretta annunciata di recente anche dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si è dunque concretizzata e riguarderà soprattutto i privati, più che le società di noleggio. L'obbligo di copertura assicurativa viene esteso ai veicoli a prescindere da una serie di fattori. Indipendentemente dal terreno sul quale i mezzi vengono utilizzati. Indipendentemente se i veicoli siano fermi o in movimento. Indipendentemente dalla circolazione in zone il cui l'accesso è soggetto a restrizioni, ad esempio negli aeroporti, per i mezzi che trasportano i passeggeri dal gate d'imbarco al velivolo. Deroghe ed eccezioni. Il provvedimento varato dal governo Meloni prevede però anche alcune deroghe ed eccezioni. L'obbligo di copertura assicurativa non è valido infatti per le seguenti categorie. Per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto. Per i veicoli ritirati dalla circolazione, destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro. Per i veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione e ad esempio per utilizzo stagionale. Le altre novità decise dal CDM. In una nota ufficiale, il Mimit ha sottolineato di voler garantire una maggiore trasparenza, rafforzando lo strumento del cosiddetto preventivatore. Si tratta di un supporto che aiuta i consumatori a confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle società di assicurazione. Per consultarne le tabelle basterà collegarsi al sito dell'Ivas Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, l'OA quello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il CDM ha poi provveduto a codificare una possibilità che finora poteva essere decisa e concessa agli assicurati, e che ora invece diventa un obbligo per l'impresa assicuratrice. È stata introdotta definitivamente la sospensione volontaria dell'assicurazione da parte del soggetto che ha sottoscritto una polizza. Sono stati imposti però alcuni paletti. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a nove mesi nell'arco di un anno. I dati sugli incidenti con monopattini L'esecutivo ha spinto molto sul tema della sicurezza stradale, in particolare sui mezzi della micromobilità urbana, come appunto i monopattini elettri. Negli ultimi anni si è infatti assistito a un drammatico aumento di vittime e incidenti che hanno coinvolto questi veicoli leggeri. Dal 2021 al 2022 i morti sono saliti del 77,8%, passando da 9 a 6 di. Nel complesso, i sinistri che hanno coinvolto cittadini a bordo di monopattini elettrici sono stati 2929 nel 2022, con un incremento del 39,4% rispetto ai 2101 dell'anno precedente. Secondo i dati dell'ASAPS, l'Associazione dei Sostenitori della Polizia Stradale, da gennaio a luglio 2023 si sono contate 759 vittime nei weekend venerdì, sabato e domenica e sulle strade italiane, per un totale di 682 incidenti. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.